Non sei un vero DJ se non hai mai toccato almeno una volta un vinile. E non lo dico io, lo dice DJ Sneak e lui se lo può anche permettere. Se sei giovane, se sei nato con il computer, almeno una volta l'emozione di toccare con mano un bel disco in vinile e metterlo al tempo e regolare il braccetto, questa ti consiglio di provarla. Ma se lavori con il vinile non vuol dire che tu sia un buon DJ. Perché comunque una brutta serata fatta con i vinili rimane una brutta serata e non è meno brutta di una brutta serata fatta con il computer o con il cd. Cosa voglio dire con questo? Se suonare il vinile vuol dire che non compri un disco dal 2008 e ci fa sentire solo quella roba lì, beh, non è che sia un grande valore aggiunto. Oppure se suoni della roba talmente insentibile e comunque le persone si lamentano, si annoiano, allo stesso modo non è un bel lavoro. Quello che conta prima di tutto è fare una bella serata, creare una bella situazione, una bella atmosfera, con qualunque mezzo tu utilizzi. Spesso si vede scritto DJ set vinil only, ok, bene, però fammi un bel lavoro, non mi interessa come lo fai. Anche perché lo sappiamo e lo ripeto, le persone non guardano molto alla console, però se ne accorgano di quello che succede. Il vinile non ti salva da una brutta serata. Suonare con vinile vuol dire che mi tiri fuori qualcosa di particolare, di selezionato. Può essere magari della musica che non sono abituato a sentire, può essere anche degli anni 90, degli anni 80, della house sperimentale, quello che vuoi. Può essere della roba particolare che hai solo te e allora magari mi impressiona. Oppure possono essere anche delle cose nuove che però escono solo in vinile, per alcuni generi è così. Ci sono etichette che stampano molto in vinile, ci sono delle uscite particolari sul vinile che poi molto dopo si trovano in mp3. Allora sì che suonare in vinile è un valore aggiunto. Allora sì che il tuo essere un DJ che ancora suona in vinile ti rende attuale, ti rende interessante e mi fai un ottimo lavoro. Si vedono spesso anche su Facebook le dirette dei DJ set in casa con il vinile. Ok, bene, però attenzione a quello che fai, a quello che metti, perché è difficile oggi essere interessante e non basta vedere un paio di piatti che girano per esse. Questo, ripeto, è un consiglio che umilmente ti do. Non credere che suonare il vinile ti erga sull'altare del DJ rispettabile. Non è così purtroppo o per fortuna. Cerca di sorprendermi come sorprendi le persone che vengono ad ascoltare. Sono curioso, fammi sentire quello che fai.